no non è nulla dobbiamo andare a passare a mangiare tutta la propria presidenza anche ai visita cosa ha scritto signor giuseppe ma l'olio gmail carlo se gli stessi cercano i dubbi giallo il salato per il disegnato passata anche dal mio canale un che sono un da francese i miei figli testi io signo io signo signo no 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 non so come vedere la parola giocando un grado il popolo 4 ore di ore live il mio aradio scelto cittadini no 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 no! non va poco al questo! ok. salvo mi ripetere uno dei due lanciapalle di neve te lo dà come mi serve no no l'ho fatto quando devo farlo ma non è tutto stesso male avevo il mondo sono la raffinazione del futuro Grazie. Speriamo. Ora si ti ha matato. Speriamo. Eh... Pronto. Però... Come? La tua foto. Ok, ora... Vai sulle fesse, la persona... Allora, vai su YouTube normale, non andare su Poffin. Eh... Questa è contata. Sono tutto il normale. Vai a canale segnalare i nuovi. ma è che deve andare su quello che vuoi fare mod devi mettere vai al canale poi va su tre puntini in alto a destra poi va su condividi poi vai su copia link ora torna su puffin e vai sul tuo canale youtube poi ora essendo soli devi per farmi pensare dopo essendo lì devi spero ci sto cercando di ricordarmelo appena sei lì devi andare su una sola in modo vuoi andare anche in quella di ora in una live e hai visto e lì accanto si ti fa vedere la chat lasciato accanto al video ti fa vedere la chat qua 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 in fondo un gioco tipico un mouse e una tastiera un mouse e un joystick per quando si mi telefono allora io praticamente faccio così vado su puffin e a me va direttamente sui moderatori e poi niente si deve andare su il mio così canale provare farlo ma donna puttettola cos'è che ti capita un joystick un mouse l'ho da giro a non sapevamo quella grande si trova nel computer devi andare su quella iconcina del tuo canale in alto che ci sono c'è l'om e te mi hai chiuso sulla funcina del canale in alto a destra dove? come spuntano i tre pontini? eh ma quello qui ok ok ma all'om c'è in alto a destra piccolino piccolino l'icona del tuo canale dove? sei cieco? l'ho capito allora mi spuntano il mouse giù allora giù c'è il mouse vero? si e dopo il mouse tu non devi guardare il mouse devi guardare un'altra cosa cosa? c'è c'è l'iconcino del tuo canale anzi ecco vai devi pigiare sui tre puntini e andare su richiedi sito desktop sito desktop? eh lo attivi l'hai attivato? ok ok ora te sei all'home di youtube vero? dove c'è tutti i video te vai all'home di youtube di su puffin ci sei? ok ok te sei all'home hai messo modo? si perché dove finisce sul di concino del tuo canale il mio canale poi dovevi andare sul nostro live dato che fino a quando ho fatto tutto questo bordello tutto questo bordello era quello che ti volevo dire ma te non riuscivi a capire poi per qui c'è due puntini qua giustissimi moderatori e tutto al 73 è buono buon corolla da tanto giustissimi moderatori qua sopra e qui ti fa vedere i moderatori io so come stai io so questo al 106 che mi faccio un troppo e lo stavo c'è una persona in live è al 106 si è dammolo ma sarai che te lo do? ci tengo tantissimo non si può più trovare posso scambiare una lama spettrale al 58 ne ho due non ho visto nemmeno il livello vedrà è l'obliteratore? quella il 58 e la mia? la mia tempesta ma la tempesta alla mosf spettrale la mia empettante si chiama la maschia finger io so quello volevo il tuo però leggendaria questa è il silenzio per favore no mi servono alte armi alte ce ne hai? ce l'hai armi alte? no no senti bene io ti posso scambiare a quella valva 106 va bene ti aggiungo due di mala perché non è proprio full però ha tanta vita va bene bene solo se ti accettavo così tanto lo devo fare potrei avere leader e permessi ok e te cosa mi vuoi da per questa al 106 2 di malattie l'obbligato è un obbligato nel 106 si 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 e basta anche se tu vuoi lavoro a questa è al 106 si vede malattie e allora è leva tanto leva 4000 testa faccio quella 106 pulper che però che non scambio leva 5000 testa 2 batteria 2 no 2 di attiva celle 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 11 15 12 11 12 12 12 12 13 14 15 14 15 14 15 15 io spero sia al 106 euro per aver fatto che aveva detto al 58 però vabbè che c'è stato troppo io va bene ci crederò ciao io 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 sì però io no io 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 sono il live seguitemi sul mio canale youtube mi chiamo sono 600 iscritti non mi piace quando ci vuole almeno è l'ora conti che hai su youtube su brother gamer non roberto cc tu brother to brother game gamer non fare lo scatto anche tanto lo so che potreste fare lo scatto il�vot con vuoi uno spon drinks mi ha già mai nell'ordine alla 좋essa l'ora tv il favore aggiornato 2 io ho già guardato down fiat droppano insolitor imparare anche aspettiamo alla propria pura ma guarda la rd rientri 10 stavamo a costa per me a unicina a fare si andava a scuola poi scuola l'altro con la città altre conosce l'azzurro aiuto via non vivi che ha mai avuto bravo la sua ripresa la verano il cos'è vero non dieci di quelle non riesce a cercare appoggio ma chi è che dice di che dobbiamo invitare io mario mario aspetta rega rega faccio un gioco giochiamo insieme vabbè raga e io volevo andare a metà ora scambi serio dai salvo su ho avuto l'avuto la mia il o proprio pubblico spero si è pubblica regale la vita ma per quello di voglio le raggiungere e quindi per me assunissimi vediamo che sia al 106 la rosa per la parola chiama chiama ma ma sei rimasto perché forse pensavo a te facevi lo scatto anche perché ho capito si raga ho fatto un giochiamo insieme non l'ho fatta a casa e volevi oddio ci siamo mancati ci siamo mancati salvo ci siamo non mi sto facendo giochiamo insieme non si e' ma come arrivare ma è realizzato tanto so che quello è il 106 l'obliteratore aspetto aspetto ma è un altro e' da una modifica o' non lo so che esistono o' o' non lo cana ma lascia poi ho detto che io voglio fare un po' parla l'invito l'invito tipo una frase portogolo se non andiamo un po' un po' sì così mette la piramide a mario tu mi ha spaventato a loro guardiamo il logno a sto vicino mario scritto bello ah si è l'emimario eccolo ma non so che diciamo se ti truffa maria maria stiamo scherzando e fra di noi oggi quando ho trovato vai bravo regalo adesso non si sta facendo scherzando stasera diciamo che accendo stata troppo ma proprio la ripresa o il mio maravano ho fatto una riprende ci mando 8 58 che ci mando alla raffinati e guardano non 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 11 10 THM 9 10 10 10 15 10 11 12 12 12 12 13 16 13 sono io ora si dopo guarda guarda anche dalla mila e dopo era 106 e che ora sotto dopo la 106 guarda guarda l'ora di dietro c'è stato allora se ragazzi siete vabbè basta non so più voglia di scambiare lo scambi non so più non mi vedo il problema è un problema è che non l'idea sono a me per me le aziende vissi a pescita il mio canale ok ragazzo si vede anche quella di salvo studente non c'è molto maggiorno mario quanto riguarda per favore per me non mi siete iscritti mi dice ancora 87 iscritti in un certo dopo quello della parata di eroi la stessa lupino raga non mi siate iscritti a me non mi fa vedere mi servizio c'è la vera non l'anana sottolinea l'aria buia un po' c'è la riuscita potente 42 e come che sei amato sposo troppo all'alto è impossibile che si abbassa la potente 42 beh raga regali scrivete veramente avevano sono detto che mi sono scritto per ora ero 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 libri reale se mi scrivo mandare un'arma vuoi un'arma e mi scrivo che non potrebbe essere anche te ti scrivi ti do l'arma poi ti ti discrivi no perchè deve farlo per erano 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 città per la 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 rosa passavano testo l'unico il bambino l'uomo il bambino oltre a fare la propria aiut non il io 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 è libero e permesso non fa bambini dalle amici ora il segredito per quello scambiamo la porta ma con le mani gli amici di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia anche per le armi vera l'indirizzo tavolaccia quindi non è che ho proprio anni quanto ho detto che ho fatto per esempio l'arad a tutti di neanche vabbè ma ma comunque qualcuno di voi due si scrive il don armo non la legale che devo portare per me abba a cambi di alf il valoso contattemi direi da intanto si vede trattando un'altra il rai del rai del santo per un'altra lo scopro vallor mi darà la mia mamma l'interessata tutto il lavoro avvicinente la casa aspetta incominciato con la migliora per me per la testa stand 30 c'è da vento c'è da voler tutto se c'è il centro c'è se tu sei io credo che c'è un'altra foto di 4 ore che non è la teglia 3 altra teglia spettos lo spettos con chi si chiama spettos che in allo schede spettro silenzio dello scambio eccan eccanale questo è il tuo cuore però poi il progetto spettistiene lo voglio tramamai il cd no c'è la prima volta ragazzi scrivetevi io sto mutando a quando ma chi di voi ma chi di voi carmio ai salvo finchiamettura suonare ognuno mi dice alla mappa suonare 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 ma stasera la legenda il nostro cliente e lei leggeri poi questo è tutto posto e bordo se il camuro bastini che livello è il camuro bastini per te per te piccioli di vino ciao a me non è vero salvo il capo del mondo no 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 ora ora finisci erano 130 32 no no notturna 130 oppure ce l'ho anche l'evento poco anche il mio carattore avendo 130 però poi 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 106 è non via es via e perchè il che è 82 voi ho chissà questo lontan qui tardi postare stavolta lecce di vendere per favore no non lo scambio il tavolo non ci dovendo che ma cazzo domani n basso necchio aiutare coccola scambi c'è quello che è cambiato per i miei con il mio lavoro per la vita del gioco però non è vero e se farmi dopo ci vuole alaschio pittoria per il mio corizio il tuo cuore non lo sconto o lo sconto la mia vita se la mia vita eravigli di occhio ma per questo ci aggiungi pure un po di mano perché perchè più raro schiotto ed è un altro passo che manca il tamburo bologna e data compagno un'attività ma la vera la proposta compagno non potendo mario e raro il tamburo abbattendo ma regalo nella roma e nevo 5 una volta andiamo un momento e la roma non è la punta del regalo non lo ha a terra non lo riusciti non lo muovo però se vuoi si vede piccola nota la cosa è la donna lente a ballare l'attuale 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 però non è nata poco l'allora la borsa allora non è nata come ciao 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 il posti albisus per ora potrebbe per me vabbè acr andate via voglio un mary l'uomo acqua c'è proprio che sarà l'altra volta un'idea a te a te a quattro a quattro parte aspetta io so i distruggi in il il disintegrazione vintertec eh all'ottore all'ottore all'ottantodone del mondo l'uomo disintegrazione vintertec all'ottantodone con 6 perk con 6 metti del lato e le gai sono dall'altra parte della mappa amore per andare le gai sono io sono dall'altra parte 3 min la c c c la scala fosse no mettito la mano e droppe mettito la mano mettito la mano mi mi troppo maure non ci sei riuscito a prenderlo ma la la ora la 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 cosa ma io allora la l'azione la ma la 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 s la 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 quanto s il il si intucia quindi infatti la sensazione della compa arma 82 so come dire che tu mi ti fa se a su un primo e zittà la porta guarda capo se ci mando te tu mi destino e la torma l'ho trovato da un'area che è prontale un po ma poi ti pare che hai mai vito a vedere che ti fa sentire di riposo ma io quando l'ho è stato un'ottima ora la mia il nostro è stato un'ottima è stato un'ottima ora 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 non è vero ora non è stato l'uso roso ora la salvia di alberga credo signor tra l'aria no giochiamo ancora questi volevano gli regalavo un'arma mamma mia allora segnalazione truffa commerciale come si chiamava l'uomo all'arte del corso l'uomo a i ecco forse non è l'attività un bel anno dal 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 del fattore ora lo studio ciao ragazzo mi ha migliorato tutto il suo alex anche lei da me se guardate segnalatelo tutti ma che bro entro di nuovo da te aspetta guarda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.